Oggi voglio mostrarvi un modo più efficiente ed efficace di scattare le nostre fotografie con particolare riferimento alla messa a fuoco e all'esposizione. Andremo a vedere come si fa su una fotocamera base come il mio muletto che è la Canon EOS 700D, quindi una macchina vecchia e una macchina assolutamente non professionale. Quindi quello che possiamo fare su questa macchina lo possiamo fare su qualsiasi altra macchina perché ovviamente le più professionali hanno più funzioni, quindi ne avranno delle altre ma avranno anche questa. Nel corso di questo video andremo a vedere come impostare un bottone indipendente per la messa a fuoco e come andare a scattare le nostre fotografie mantenendo l'esposizione corretta. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per le aziende. Mi capita molto spesso di trovarmi in contesti in cui il metodo classico di messa a fuoco non risponde alla mia esigenza. In particolare quello che facciamo tutti normalmente è che prendiamo in mano la fotocamera, magari selezioniamo i punti di messa a fuoco automatici e andiamo a scattare. Questo può portarci a degli errori di messa a fuoco. Per esempio in una scena come questa se noi impostiamo tutti i punti di messa a fuoco una mirrorless capisce che deve mettere fuoco a me e mi becca l'occhio ma una fotocamera tradizionale potrebbe mettere a fuoco su quello che è più vicino e quindi potrebbe mettere a fuoco il microfono o la mia mano e questo potrebbe portare a degli errori di messa a fuoco. Per questo motivo io di solito utilizzo il punto di messa a fuoco centrale che normalmente è quello più preciso e più efficace, solo che non sempre il mio soggetto deve trovarsi in centro. Quindi io che cosa faccio? Metto a fuoco in centro, dopodiché mi sposto lievemente per ricomporre la mia scena. Quindi metto a fuoco qui, dopodiché però sposto la mia inquadratura in maniera tale da non avere il soggetto impalato in mezzo ma ad averlo più da una parte o più dall'altra. Ora, qui ci sono due problemi. Il primo, a me piace moltissimo fare focus e ricomposto, quindi io metto a fuoco e poi ricompongo tenendo premuto il pulsante di scatto. Il primo problema qual è? Che quando io faccio questa operazione devo rifarla tutte le volte, quindi io metto a fuoco una prima volta, mi sposto e scatto. Dopodiché però devo rimettere a fuoco, rispostandomi nella posizione iniziale e tornare a ricomporre e riscattare e via così. Quindi punto metto a fuoco, ricompongo e scatto, punto metto a fuoco, ricompongo e scatto e lo devo fare tutte le volte. Ora, io sono abituato a farlo quindi non mi crea particolari problemi, però esistono alcuni contesti, come per esempio lo sport o la vifauna o semplicemente oggetti che si muovono, dove io potrei voler fare più fotografie mantenendo quella distanza di messa a fuoco ma senza dover ricomporre tutte le volte. Ecco che abbiamo la possibilità sulla maggior parte delle nostre fotocamere, inclusa questa, di selezionare un altro pulsante per la messa a fuoco. Nel mio caso questo è il pulsante che andrò a selezionare, è l'unico che posso selezionare per la messa a fuoco. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui io premo questo bottone, vedete? Vedete? Io ho l'indice staccato, non ho l'indice sullo shutter, io sto mettendo a fuoco con il bottone sul retro. Vedete? Quindi in questo momento è questo bottone che comanda la messa a fuoco. Abbiamo invertito due funzioni perché questo bottone normalmente blocca l'esposizione. Invece in questo modo io posso andare a mettere a fuoco con questo tasto. Questo che cosa significa? Io prima facevo questo, state bene attenti. Andavo a inquadrare, mettevo a fuoco, ricomponevo e scattavo. Questa cosa può andare benissimo, ma se voglio ripetere lo scatto devo tornare a rimettere a fuoco, poi tornare a ricomporre e poi riscattare. Questo è lungo e magari mi fa perdere degli attimi decisivi. Invece se io imposto il bottone di messa a fuoco, il back focus come viene chiamato, io posso andare a mettere a fuoco una volta, metto a fuoco, ricompongo e a questo punto posso scattare tutte le foto che voglio perché il pulsante di shutter non andrà più a modificarmi la messa a fuoco, ma rimarrà la messa a fuoco precedentemente impostata col bottone di back focus. Quindi questo è molto utile perché se io sto seguendo un soggetto che sta sempre alla mia stessa distanza, che può essere una persona che parla o può essere un qualcosa che si muove perpendicolarmente, io posso andare a mettere a fuoco col back focus una volta sola e poi andare a fare tutte le foto che voglio. È come se io mettessi a fuoco una volta col bottone di shutter e poi andassi a togliere l'autofocus sul mio obiettivo. È la stessa cosa, l'autofocus non si muoverà più a meno che io non torni a premere questo bottone col pollice. Questo è molto interessante perché appunto mi permette di lavorare in un modo più versatile. Ora però c'è un'altra cosa che vi faccio vedere, sempre dedicata a questo aspetto, vi faccio anche vedere come si imposta. Noi siamo su questa voce di menu e siamo sui pulsanti personalizzati. In questo caso vedete che il pulsante di shutter serve per autofocus e blocco autofocus. Ecco però che se io vado a selezionare blocco AI e autofocus, quello che succede è che in un colpo solo abbiamo disegnato questo bottone per la messa a fuoco. Adesso questo bottone comanda la mia messa a fuoco, mentre lo shutter se io lo premo anche a metà non fa più niente. O meglio, noi crediamo che non faccia più niente, in realtà qualcosa sta facendo. E che cos'è che sta facendo? Questa è la cosa interessante. In questo momento la mezza pressione del bottone di shutter serve a bloccare l'esposizione. Questo che cosa significa? Prendete a riferimento una scena come questa. Guardate che questa è una bombetta che vi sto regalando. Prendete a riferimento una scena come questa. Voi mettete a fuoco sul soggetto, ok? Quindi il soggetto è a fuoco e mettete a fuoco col back focus. Dopodiché premete il tasto dello shutter, il tasto dello shutter bloccherà l'esposizione. Quindi avete messo a fuoco qui, avete preso l'esposizione qui, quindi stiamo parlando delle modalità automatiche o di priorità, ok? In manuale non serve. In manuale la mezza pressione dello shutter non fa niente. Ma se siamo in priorità, se io metto a fuoco il soggetto e premo a metà lo shutter, poi posso ricomporre e mi terrà la messa a fuoco sul soggetto e l'esposizione sul soggetto. Vado a farvi vedere perché è più facile da capire. Ok, immaginiamo che il nostro pulsante di shutter non mette più a fuoco. Vedete, io lo premo e lui non mette più a fuoco. Perché io adesso metto a fuoco con questo. Però vedete che l'esposizione continua a cambiare perché io sono in priorità di diaframmia e quindi i tempi continuano a cambiare. Che cosa succede se premo a metà lo shutter? Siamo a un decimo. Vedete che con lo shutter premuto l'esposizione è bloccata. Quindi io adesso posso andare a... Adesso vedete, adesso non lo sto più tenendo premuto e vedete che l'esposizione cambia. Ma nel momento in cui io metto a fuoco qualcosa, io decido che il mio soggetto è qui, io posso mettere a fuoco e bloccare l'esposizione e ricomporre e rimarrà l'esposizione giusta con la messa a fuoco giusta. Ora, capite bene che questo è un metodo che non va sempre bene. Non può essere declinato per qualsiasi tipo di genere fotografico. Va bene secondo me in certi casi e io invito ciascuno di voi a provarlo, a pensarci e a decidere quando e se lo volete utilizzare. Vi dirò che io non lo uso sempre. Nella maggior parte delle situazioni io sono comodissimo a tenere la modalità normale e quindi metto a fuoco con il pulsante di shutter e poi scatto, ricompongo e faccio tutto quello che devo fare e sono tranquillissimo così perché è un movimento naturale per me. Però questa modalità è molto interessante perché mi permette di fare due cose. Mi permette di mettere a fuoco qualcosa e poi fare più foto di quel qualcosa senza dover tornare a rimetterlo a fuoco. Quindi io posso mettere a fuoco una volta, ricomporre e poi fare tutte le foto che voglio senza più dover tornare a cercare il fuoco. E questo già di per sé è molto interessante, ma io posso anche andare a bloccare l'esposizione su quel soggetto che ho messo a fuoco. Gli blocco anche l'esposizione così quando ricompongo non ho quel fastidioso effetto dello shift dell'esposizione. Quindi esempio, io metto a fuoco qui, poi ricompongo e quindi il mio punto di messa a fuoco finisce qui sul nero. L'esposizione va a farsi benedire perché la macchina prima aveva letto incarnato ma poi legge nero, l'esposizione cambia. Col blocco dell'esposizione impostato sullo shutter a mezza pressione questo non succede più. È un'opzione che secondo me, come detto, non va bene sempre però l'essenziale è sapere che c'è e sapere che all'occorrenza la possiamo usare. Vi invito a questo punto a farmi sapere se la conoscevate già e se pensate di utilizzarla per qualcosa fatemelo sapere qui sotto in un commento. Vi invito anche a iscrivervi al canale perché se mi commentate con delle domande o altro io rispondo spesso sotto forma di shorts verticali, quindi se vi iscrivete non andate a perderveli. Signori, è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!